Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. No, però dai, Francesco, dai, perché poi venite a fare la lezione cittadina. Allora, facciamolo così. Quello che avete fatto, quando arriva, quando arriva, Francesco, fai finire davvero sulla difesa della razza e poi scrivevano su Repubblica, tipo Giorgio Bonca che c'è scritto davvero sulla difesa della razza. Allora, voglio far chiudere prima di andare in pubblicità. Conferma quello che sappiamo. Mariana, concludi soltanto che devo dare pubblicità. Dico che non c'è mai abbastanza minoranza nel fatto che dire un Paese, è un generale che il Paese lo dovrebbe rappresentare, dovrebbe saperlo e difendere il diritto di quelle di minoranza. Allora, facciamo così, do la pubblicità, ripartiamo.